Fai il dichiaro. No, no, no. Quello dentro. Quello qui. Diamo di qui. Quello dentro. E io. Sì. Dentro qui. Eh. Però... ... ... No. Si può andare di qua? Si. Si può. Si puoi. È lavoro. Capito? Facci la vista di fuori. No. qua, qua dentro, non sono altra uno dentro o non fuori sì, però se sei sempre qui non devi ora, facciamo, vedi, ora che si deve allungare bene il tuo destino, non, non, cardro io ti spingo in testa e non ti permetto di attaccare ma con il gatto un pingo no bisogna andare avanzato abbassando oh e adesso fai un stand no ah ah Grazie. 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 Mi vedete? No. Adesso, quando hai finito un movimento, questa faccia deve essere molto più profonda e avanzata. Tu non ti devi rimanere come sti vaito. E vado! Io vado e io ti seguo, ma vado... Fino a che non sento che sono limitato, con esplosione attacca deve essere io vado io vado qui e poi attacca proprio io entro 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 ora o o o o o o o o o Grazie.